Tanto l'hanno tirata lunga che alla fine è scaduto il tempo. Se Vicenza era pronta da mesi, Verona ha temporeggiato e oggi la fusione tra la municipalizzata Berica, IM, e la scaligera AGSM è saltata. O meglio, è stata sospesa. Motivo? Non ci sono più i tempi necessari per portare a pieno compimento le trattative, vista l'imminente tornata elettorale del Comune di Vicenza. Insomma, l'operazione, che vedeva protagonisti Achille Variati e Flavio Tosi, ha finito col perdere i suoi padri. Prima è uscito di scena l'ex sindaco di Verona, adesso va in scadenza quello di Vicenza. E senza le due colonne politiche portanti, crolla anche il piano di fusione. Ora toccherà alle rede di Variati decidere se riaprire il confronto col successore di Tosi, Federico Sbuarina il temporeggiatore. La fusione tra IM e AGSM, che per crescere dovranno misurarsi sul libero mercato, avrebbe portato alla creazione del quinto gruppo italiano delle multi-utilities, il più grande del nord-est, con enormi ritorni sia su Vicenza che su Verona. Speriamo che non sia l'ennesima occasione persa.